L'uscita di Renzi dal PD oggettivamente crea qualche problema al governo, non solo non tanto perché come ha detto il primo ministro, si viene a creare una variabile in più nell'equazione delle componenti, ma anche perché finisce per legittimare le accuse più turpi da parte di Salvini di un'operazione poltonistica. Era evidente che Renzi non voleva andare a votare a ottobre perché non avrebbe avuto il tempo per fare il suo gruppo, ma si pensava che quella scelta avrebbe comunque prodotto una tempistica più dignitosa. In questo modo la dignità è stata dimenticata. Credo che non porterà bene a Renzi perché questo tatticismo sfrenato, questo prima Renzi e poi tutto il resto non è un buon viatico per un gruppo politico che potrebbe occuparsi dell'interesse generale e che addirittura si chiama Viva l'Italia o Italia Viva.